Non posso entrare in pista e fare sempre le stesse cose. Non serve a niente. Non opporti al cambiamento, amico. E sai cosa farei? Cosa? Non lo so. Mi occupo di questo aggeggio strano che è Cricchetto, il carro attrezzi. Come va, signorina Selli? L'hai fatto ragionare con le tecniche di persuasione potenzi? Pronto per l'allenamento? Cricchetto avrà un dinamismo sfrenato. Sarà un ancheggiare continuo di balestre, di parafanghi, di paraschizzi, di paraoli. Immaginate voi. Farò un colpo di clacson. Capito? Un colpo di clacson. Ho scoperto che mi piace la radio, lavorare non visto. Mi piace lavorare con tutte le intonazioni, con tutti i suoni della recitazione. E quindi mi piace anche il doppiaggio. In più mi stimola riuscire a avere l'istinto matematico di centrare le battute del filmato. Ci vediamo da Flò! È tornato... È tornato al cinema dal 14 settembre! Il mio serbatoio è pieno e so che il mio motore è fantastico, il mio paraurti riflette la luna e sento sorridermi la fortuna.